Benvenute e benvenuti, per voi che siete presenti qua e naturalmente benvenuti e benvenute alle persone che sono collegate a distanza attraverso Maria Teresa Tuccio, possono ascoltare quello che noi diremo questa sera. E Christopher Garaventa? Attraverso Maria Teresa e Christopher? Attraverso Maria Teresa e Christopher. Anzi, Christopher è l'anima informatica e tecnica della questione, quindi deve essere giustamente nominato. Bene, siamo qua perché cosa? Siamo qua prima di tutto con Franco Prandi, che è un sociologo di Reggio Emilia e abbiamo il piacere di averlo, a parlare della sua decennale, anzi pluridecennale, esperienza nella sanità pubblica. E siamo qui con Cecilia Francini, che è una medica più giovane di Franco Prandi, la quale è una medica del gruppo di medici che lavorano all'interno di una casa della comunità di Firenze, che si chiama Le Piagge e che è una casa della comunità che ha un carattere molto significativo, quello di essere stata una delle prime case della salute ai tempi e poi muoversi verso la casa della comunità più recentemente. Abbiamo invitato queste due persone a parlare delle loro esperienze nell'ambito di quello che è questo congiunto di conferenze. Noi, quando dico noi, intendo il Circolo Culturale Zenzero ed Ecoistituto, abbiamo dato vita a questo ciclo di conferenze che andranno avanti sino a dicembre, ma poi hanno intenzione di andare avanti anche nel prossimo anno, sentendo un bisogno grande di fare qualcosa, tanto che queste conferenze le abbiamo chiamate chi ci curerà domani, perché sentiamo profondamente non solo la crisi di quello che sono le prestazioni e il rendimento del Servizio Sanitario Nazionale, ma una crisi più profonda su quello che è la difesa della salute. Noi pensiamo che questo concetto della difesa della salute, che non è solo l'assenza di malattia, è benessere, questo diritto alla salute, debba essere proprio in questo momento di crisi ancor più agitato, difeso e capito. E dove vogliamo collocare queste cose? Nel nostro contesto. Tanto è vero che queste conferenze si inseriscono in una iniziativa molto più larga, che si chiama Fronte Comune per la Salute in Liguria, che ha dato vita a una forma di alleanza, di iniziative congiunte, di cui queste conferenze sono un'espressione, ma ci sono state anche delle assemblee pubbliche, ci sono stati dei presidi, ci saranno nel prossimo futuro altri presidi e manifestazioni, perché ovviamente se non abbiamo una visibilità di un discorso alternativo, qua continuiamo con la litania che tutto va bene, che ci fornisce la Giunta Totti e il Comune con Bucci. Perché dico questo? Perché in effetti in Liguria, a Genova, non possiamo vantare di avere delle esperienze decennali di casa della salute. Noi abbiamo, per esempio, nell'area metropolitana, sei distretti sociosanitari e abbiamo sicuramente, chiunque circoli per Genova avrà incontrato questa grande insegna, casa della salute della Fiumara, casa della salute di Voltri, casa della salute di Pegli, casa della salute... Ma queste raggiungono ormai il numero di circa 10, ma sono case della salute? Noi crediamo, per quello che ci dicono gli operatori e per quello che ci dicono i pazienti, che queste non siano case altro che della sanità. Cioè case della sanità che hanno messo insieme una serie di servizi e forniscono dalla diagnostica ai servizi specialistici ai pazienti che riescono a entrare, farsi vedere e proseguire. Ma non c'è nulla di paragonabile a una casa della salute. Non c'è un punto di entrata unico, non c'è una valutazione dei bisogni e dei problemi della persona. Non c'è nessun tipo di sostanziale integrazione tra servizi sanitari, servizi infermieristici domiciliari, servizi sociali, servizi di appoggio di psicologia e di assistentato sociale, che sono, diciamo, l'essenza della casa della salute, l'integrazione, il coordinamento. E, tanto di meno, ovviamente, possiamo parlare di casa della comunità. Che quello succede intorno a noi? Che invece ci sono degli esempi positivi. Ci sono degli esempi negativi, in cui, come dire, addirittura l'aspetto grottesco del nome della casa della comunità in Lombardia adesso l'hanno ridipinti. Cioè hanno scritto casa della comunità, però sono dei contenitori vuoti. Non c'è nulla, certe volte non c'è nemmeno la possibilità di accedere, senza parlare poi di che cosa ti danno o non ti danno. Ma ci sono invece degli esempi positivi e delle pratiche positive, non lontano da noi, in Emilia-Romagna e in Toscana. Certo, perché? Perché l'Emilia-Romagna è partita con un discorso di casa della salute da vent'anni. E più o meno allo stesso tempo, anzi forse qualche anno prima, la Toscana. In Emilia-Romagna si contano circa 130 case della salute, che sono moltissime di loro, sulla strada per diventare casa della comunità. Ad esempio, due di noi, Antonio ed io, siamo andati a Parma e siamo andati a visitare una casa della comunità, che si chiama casa della comunità di Lubiana, che era prima una casa della salute, che è diventata una casa della comunità. E abbiamo degli esempi significativi. I medici, per esempio, ancora per fare l'esempio di Parma, molto positivo, e sono circa, spero di non sbagliarmi nel citare i numeri, 128 medici di medicina generale nella Ausl, come si chiama là, di Parma. Il 61% di questi medici ha optato per lavorare a partire dalla casa di salute, cioè la maggioranza dei medici di medicina generale. Esattamente all'opposto di quello che abbiamo qua in Genova e in Liguria, dove abbiamo alcuni esempi di aggregazioni funzionali territoriali e di aggregazioni tra medici, per esempio, un esempio tra tutti è la Medicop, ma che sono isolati e che comunque lavorano a partire dai loro studi e dalla loro organizzazione, non da un punto centrale. Bene, Emilia Romagna, esempio positivo di esperienze, e ci saranno illustrate anche da un punto di vista un po' più complessivo da Franco Prandi, e voglio dire che la Toscana non è da meno, perché le case della salute in Toscana sono meno, sono 69 secondo un inventario del 2021, però ce ne sono 46 già pianificate e programmate, quindi anche in Toscana arriveremo a 100. Il numero dei medici di medicina generale non è estremamente elevato, ma comunque per il 15% è nella situazione di Parma, cioè ha optato per andare a lavorare in gruppo nella Casa della Salute, e anche lì perché succede questo? Certo, potremmo semplificare l'interpretazione dicendo perché ci sono stati degli amministratori che hanno visto distante, in effetti sia per l'Emilia Romagna che per la Toscana abbiamo delle delibere che vanno dal 2005, 2010, 2016, tutte che già parlano di come andare avanti nell'organizzazione dei servizi di forma integrata, mettendo al centro la comunità, l'appoggio con le associazioni di volontariato di base, quindi vedendo già allora, in quegli anni, come doveva svilupparsi una qualità completamente diversa dell'assistenza. Abbiamo queste cose degli amministratori, ma a parte il fatto che noi abbiamo avuto sino a ieri un'amministrazione di centro-sinistra, che però purtroppo di delibere in questo senso non ne ha fatto manco una, ma non è tutto semplificabile a livello della delibera o della non delibera, dell'appoggio dall'alto dell'autorità. Quando noi abbiamo incontrato i medici di Parma, i medici di Parma si sono messi insieme uno con l'altro, non perché un'autorità sanitaria e tanto di meno un assessore regionale gliel'aveva raccomandato, si sono messi insieme perché hanno considerato che si lavora molto meglio, che erano molto interessati a lavorare perché lavoravano meglio in quella forma. Quindi non sono solo le delibere, né tanto di meno le azioni dall'alto, è la crescita di un discorso dal basso che evidentemente ha un nome di comunità. Questa sera in questa sala ci sono persone che si danno da fare come parte attiva di associazioni di volontariato, di associazioni che hanno come finalità o gli aspetti sociali o gli aspetti sanitari, è come noi riusciamo a lavorare e a convincere prima di tutto noi stessi che si può fare, che si raggiungono gli obiettivi che in Toscana e in Emilia-Romagna abbiamo visto concretizzarsi e stanno sviluppandosi. Comunque non rubo più tempo, lascio la parola a Franco Brandi che ci parlerà in particolare dell'esperienza di Prima la Comunità, l'associazione di cui fa parte, presieduta da Don Colmenia di Milano e che ci farà entrare in una cultura, in un approccio culturale alla salute e all'integrazione tra salute e beni comuni e beni sociali che io penso valga la pena veramente di essere ascoltata. Quindi io darei la parola adesso a Franco, non so se deve presentare delle slide o meno, comunque questo hai la parola, Franco. Grazie, grazie. Buonasera a tutti e grazie di averci invitati. Io sono qui in quanto un socio dell'associazione. La mia storia l'ha detto, come dico sempre io, non sono un sanitario, però nessuno è perfetto e quindi sono laureato in sociologia più che sociologo. Se mai parliamo di geometra sociale, e ho vissuto la mia esperienza professionale per 40 anni dentro il mondo dei servizi, cominciando con la deistituzionalizzazione psichiatrica con il professor Gervis, la provincia, poi la USL, poi l'azienda ospedaliera, e poi l'azienda sanitaria, sociosanitaria, e poi ho fatto anche due anni in un'azienda ospedaliera e poi sono tornato qua nel mondo dell'azienda territoriale, dove ho concluso il mio percorso professionale in quanto sociologo, facendo qui la dimostrazione che nessuno raggiunge, cioè tutti raggiungono il loro livello di massima incompetenza alla fine carriera, mi hanno fatto fare cinque anni direttore amministrativo. Da tutti definito direttore amministrativo anomalo, ma insomma ho fatto questo percorso e la mia storia personale è anche legata molto all'esperienza territoriale, perché da sempre io ho lavorato prima nel quartiere, dove abbiamo nel 1980 avviato i servizi infermieristici territoriale, ma abbiamo creato una mini casa della comunità all'interno di un centro sociale di quartiere, dove c'erano alcuni servizi sanitari, c'erano gli infermieri e l'assistente sociale, c'erano tutte legate e c'era la comunità, erano 20.000 persone che avevano in quel modo un servizio diciamo unitario e i 16 medici medici e medicini di quel territorio erano assolutamente più o meno insomma però tutti assolutamente collaborativi, abbiamo fatto vedere bellissime esperienze di cambio di impostazione nel loro fare il lavoro di medici di famiglia. Faccio un esempio banale, la cardiologia che a un certo punto aveva una domanda diceva il cardiologo assolutamente impropria, loro si sono messi di Buzzo Buono e in pochissimi mesi praticamente hanno diciamo dimezzato una domanda cosiddetta impropria per modo di dire perché comunque aveva un esito l'esito diagnostico aveva un esito negativo per fortuna insomma la letteratura a quei tempi diceva che il 50% doveva essere assolutamente anzi doveva essere negativo e loro erano all'80% e sono arrivati tranquillamente perché hanno costruito un discorso di rete con lo specialista ma anche con i servizi territoriali insomma dell'infermieristica e anche con il sociale quindi ma parte quello vengo da quella storia da quell'esperienza che ho vissuto poi anche all'interno dell'azienda sanitaria dove mi sono sempre occupato di programmazione ecco e quindi adesso nel mio piccolo contributo provo a metterlo in 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 comune no? vorrei provare a mettervi in diciamo così in sintonia con l'esperienza concreta che io credo che porti Cecilia e vorrei non portarle via molto tempo però mi sembra importante sottolineare alcuni passaggi che per noi sono fondamentali li trovate tra l'altro nel sito se avete voglia www.primalacomunità.it dove peraltro c'è anche un tentativo progettuale no? che è più un tracciante di casa della comunità così come lo pensiamo noi non è un modello perché io non credo nei modelli perché i contesti non sono una cosa secondaria ogni contesto esprime la sua specificità e questa specificità va non solo garantita ma va anche valorizzata quindi non è un modello è semplicemente un tentativo tra l'altro una delle case della comunità toscana è un piacere enorme quando ho avuto modo di conoscere il medico che l'ha presentata dice noi abbiamo sposato ecco l'impianto lui non sapeva chi ero dell'associazione prima la comunità dell'associazione prima la comunità e questo mi sembra molto interessante no volevo proprio brevemente dirvi prima di tutto quando parliamo di prima la comunità non l'associazione non è una parola vuota ecco parlare di comunità parlare di contesti relazionali nei quali le persone costruiscono la propria esperienza di vita c'è chi addirittura parla come Heidegger parla di io sono in quanto abito il sistema di relazioni non è un sistema demografico geografico anche quello ha una sua funzione però capite bene che se partiamo da lì il discorso ecco si smorza quando comincia ad avere una casa della comunità con 50.000 abitanti o cose di questo genere ogni contesto che si riconosce come comunità però la cosa più importante io credo che sia quella di metterci in discussione ecco non solo nel senso che noi abbiamo delle cose che non sappiamo proprio dobbiamo cambiare paradigma e allora non è la salute non è la sanità la sanità c'entra però ecco dopo lo vediamo un attimo ma c'entra per una parte la salute è un disegno di vita globale che tocca gli aspetti educativi lavorativi di contesti relazionali eccetera la comunità ha al suo interno le istituzioni le istituzioni sono costrutti sociali l'azienda sanitaria le diverse la scuola sono tutte sono costrutti sociali che hanno un valore nel momento in cui vengono legittimati dalla comunità il servizio non sono le prestazioni ma è una relazione molto più complessa molto più ricca di sfumature in cui il protagonista non è il tecnico ma è appunto la persona né in relazione con il tecnico nel suo contesto il mercato non è il bene comune noi parliamo di bene comune ecco quindi non è fungibile la sanità i servizi il welfare ecco la salute non è fungibile non è commerciabile e poi la persona lo vediamo poi un attimo dopo non è la patologia la complessità non è lo specialismo lo specialismo c'entra la patologia c'entra le prestazioni ma sono espressioni operative e organizzative di qualcosa che diciamo che trova le sue ragioni a un livello diverso e vediamo un po' cosa vuol dire un po' questa cosa del livello diverso no? Non è non va avanti no scusate ecco soltanto due cose vi volevo far vedere questa l'ho vista l'altro giorno sono i dati Eurostat noi siamo abbiamo una realtà assieme ai paesi della comunità europea orientale Bulgaria Romania Grecia no? e Cieco Slovacchia sì Cieco Slovacchia che hanno un 63% di persone che hanno una difficoltà ad arrivare alla fine del mese teniamolo presente come dico il problema è avere l'ultima tecnologia o è piuttosto un problema di salute che va osservato a livello più ampio un'altra cosa che mi sembra interessante 6 milioni di persone in povertà assoluta in Italia 4 milioni di persone che non si possono curare la dispersione scolastica che è quasi al 20% da noi con punte del 35% al sud l'istruzione condiziona la nostra salute è uno dei determinanti vado solo a darvi tre dati l'istruzione in Italia il 3,9% del PIL in Europa il 5% paradossalmente in Italia le pensioni quindi un tentativo di esclusione il 16% nell'Europa è quel 12,5% nella sanità il PIL è al 6,5% andrà al 6,2% in Europa è il 7,1% basterebbe soltanto il dato sulla spesa individuale 4 mila euro in Europa 3.200% da noi poi non voglio entrare però dall'idea abbiamo situazioni come la Germania che ha il 12% ma c'è comunque più di mezzo punto di differenza capite? questi sono aspetti che noi dovremmo tenere presente e li dovremmo tenere presente con questa connotazione non è secondario cominciare a parlare di determinanti della salute sapete? i servizi sanitari il WHO World Organization lo mette al 10-15% nella sua definizione ecco organizzativa in funzione della salute ecco noi a questo punto siamo invece in una specie di bolla in cui diciamo se la sanità la salviamo salviamo la salute della gente sì aiutiamo certamente ecco e deve essere salvata ma attenzione che il disegno è un po' più ampio ecco ed è il disegno un po' più ampio che io mi propongo in chiave proprio provocatoria in questo modo una specie di puzzle dove c'è un contesto comunitario dove c'è un capitale sociale una coesione una percezione collettiva ecco di sé e del proprio benessere dove c'è un'idea di sviluppo e di vita comune c'è un sistema di welfare che guardate non sono io che lo dice ecco sono premi nobel come la Ostrom o la Nussbaum meglio di lui meglio di loro due addirittura il sistema di welfare è il sistema di democrazia come riusciamo a costruire gli strumenti che garantiscono diciamo inclusione ugualianza questo definisce ecco la nostra democrazia in Italia negli ultimi vent'anni c'è un indice che si chiama indice di Gini che si è portato al 40% siamo vicini all'Argentina non certo ai paesi nordici come distanza come ecco distribuzione ineguale ecco delle risorse sociali ecco in questo contesto scelte e strategie sono importanti e poi sono degli strumenti strumenti che possiamo collocare le scuole sono nel sistema educativo ma le scuole sono dentro un sistema di welfare la casa della comunità è dentro un sistema di welfare anche se in un qualche modo lo facciamo riferimento lo portiamo come riferimento al servizio al sistema sanitario dico però il sistema sanitario non può agire da solo non si non ci si salva da solo e questo ce l'ha insegnato vedo in modo quasi plateale l'esperienza pandemica ecco l'esperienza delle piagge ci aiuterà molto ad andare in questa direzione ecco e in questo la casa della comunità diventa uno strumento non è un fine sapete non è che fatta la casa della comunità abbiamo risolto i problemi se dietro non ci sono delle premesse e provo a darvele queste premesse nella in una logica di ragionamento sequenziale ecco che è fondamentale quindi da una parte sottolineo questo aspetto che la casa della comunità è un'infrastruttura sociale dove si ci si incontra ci si relaziona la comunità fa sintesi è quel luogo dell'abitare se la casa della comunità è un luogo dove si va a prendere solo le prestazioni è un luogo che si attraversa non è un luogo che si abita la differenza tra il territorio e il luogo è la nostra capacità di riconoscerci in quel luogo è l'idea di casa sostanzialmente che è un'idea ontologica quasi che ci coinvolge in maniera globale ecco ecco allora che diventa una specie di rete di reti che va oltre le etnie le religioni la lingua le esperienze storiche lavorative se andiamo dietro di cent'anni sappiamo cosa vuol dire oggi su che cosa possiamo fare leva per stare insieme o ci chiudiamo nelle nostre stanze nelle nostre case ecco e il resto del mondo è il nemico oppure costruiamo coesione costruiamo solidarietà comunicazione relazione quella cosa che l'organizzazione mondiale della salute ci dice la salute si genera laddove le persone vivono si relazionano abitano lavorano amano giocano questo lo dice nell'86 lo dice nel 2016 in modo estremamente esplicito e chiaro e allora a quel punto ecco un ragionamento che va se la casa della comunità è uno strumento per fare che cosa io prendo un martello se ho nella mia testa è il fatto che devo piantare un chiodo e sono in un contesto dove il chiodo lo posso piantare perché ha un senso piantarlo allora proviamo a fare una specie di ragionamento logico in questa dimensione dove il primo passaggio sono i valori noi abbiamo in testa l'idea della persona la persona giocata nella logica del chi è non il che cosa ha non nel senso che ha malato ma chi è quella persona da questo nascono dei principi se quella persona per noi non è un malato non è un utente non è un destinatario non è un assistito ma appunto una persona in quanto abitante di una comunità cittadino questo lo è per tutta la vita ecco allora il principio della domiciliarità che è la dignità di ogni persona per tutta la vita io sono in una situazione di ecco di bisogno di protezione perché ho perso la mia autonomia non posso essere prelevato dalla mia comunità e messo in una casa di riposo una casa protetta una cra chiamatela come volete e da quel momento divento semplicemente un ospite di quella struttura e perdo completamente la mia storia i miei legami i miei valori io ho vissuto in questo periodo l'appartenenza a un gruppo quello che è il netto della non autosufficienza questo problema non solo non è stato colto nella sua essenza ma addirittura è stato in un qualche modo rifiutato perché ovviamente questo mette in discussione il significato stesso delle strutture che sono i luoghi della domiciliarità protetta la domiciliarità non è solo l'assistenza domiciliare è il secondo principio che volevo mettere in campo perché nella casa della comunità è fondamentale il concetto di alleanza non è l'integrazione sapete l'integrazione riconosce a tutti le stesse poteri diversi ecco e allora operativamente cerchiamo di lavorare insieme l'alleanza invece è riconoscere riconoscerci in un valore il contributo di ciascuno quindi il valore delle differenze che diventa risorsa per ottenere un risultato che è determinato che è collegato al mio valore ecco allora che non ha mica più senso il fatto degli specialismi ma è necessario riconoscersi e riconoscere le differenze creare osmosi che non vuol dire che tutti fanno tutto ma il valore forte è riconoscere il contributo dell'altro chiunque l'altro sia l'ottimo chirurgo ecco è bravissimo a fare l'intervento chirurgico ma se l'ausiliario o l'osso adesso ecco sbaglia il paziente o lo fa cadere mentre lo porta ne vale la qualità del risultato e allora le due risorse sono diverse nessuno dice che il chirurgo è uguale all'osso però le due risorse hanno la possibilità di lavorare insieme e se io so dove voglio dove devo portare come lo devo portare con quale e mi riconosco in quel risultato probabilmente lo faccio anche meglio e allora ecco che costruisco l'integrazione l'integrazione è un risultato operativo è uno strumento è il martello è la modalità che mi porta a lavorare in squadra e di cui la casa della comunità diventa diciamo l'infrastruttura fondamentale però se non ho un'idea di salute come quella che dicevo prima e non ho l'idea di persona è difficile che faccia queste cose e il risultato a quel punto o è la prestazione o è qualcosa di diverso vi dicevo la persona io sottolineo e questo mi piace proprio sottolinearlo la persona non è chi ha qualcosa ma la persona è in quanto tale prima che essere fragile vulnerabile disabile via di seguito è persona io ho imparato questa cosa da questo psichiatra che dice quando una persona particolare se la vediamo come irlandese o tedesca lui scrive così ebrea o cattolica nera o bianca eccetera io vorrei mettere ricca o povera e via di seguito non riconosciamo una persona ma semplicemente categorie e noi lavoriamo per categorie le stratificazioni che il PNRR prevede hanno un rischio enorme in questa direzione perché rinunciano all'idea di persona dei contesti nei quali ogni persona esprime se stessa e allora facciamo una stratificazione per patologie allora ci sono gli infartuati ci sono quelli che hanno autolictus ci sono quelli che hanno le broncopolemopatie e via di seguito non è quella la possibilità di fare un lavoro davvero di salute parliamo delle ottime prestazioni sanitarie ma perdiamo di vista il contesto detto questo e ne ho parlato anche troppo vorrei introdurre un po' perché ho fatto questo ragionamento provando sempre è stata un po' questa è la traccia della mia esperienza professionale quale senso riusciamo a mettere in campo per la casa della comunità e allora io mi sono sempre fatto queste tre domande quali sono le questioni problemi prioritari documentati di salute che la mia comunità esprime con quei valori che dicevo prima le cose che sto facendo sono utili le faccio con la casa della comunità sono utili alla soluzione dei problemi quello che sto facendo lo sto facendo al meglio coerente con i valori dichiarati vorrei dire la mia storia professionale poi con tutti i limiti assolutamente ha avuto questi traccianti se lo riporto dentro la casa della comunità secondo me siamo a un bivio la casa della comunità può essere intanto chiamarla casa di comunità come la casa di vacanze stessa cosa cioè un luogo di produzione in un contesto locale c'è la fabbrica di bulloni c'è anche la fabbrica di prestazioni il rischio un po' è questo l'esperienza lombarda di cui accennava Bruno per me è emblematica ma non è che altrove le cose siano proprio molto diverse oppure può essere un'infrastruttura sociale dirette per la salute dico infrastruttura nel senso che è una rete di reti è un luogo dove sicuramente si fanno delle cose si creano dei servizi utili ecco con la comunità ma non si esaurisse in questo perché la salute nasse sicuramente dal contributo che la casa della comunità mette in campo come cardiologia metteteci quel che volete ma si costruisse con quello insieme a tutte le altre io non posso pensare che il tema della povertà educativa dell'abbandono scolastico della viabilità ecco dell'analfabetismo di ritorno non sia un problema di salute se noi lo abbandoniamo diventiamo un'azienda che produce prestazioni e allora ecco io vengo da tre esperienze di abbattimento delle liste d'attesa adesso mi pare che stia arrivando la quarta a livello nazionale sono durate quando la prima è durata quasi un anno le altre sono durate anche meno perché nel momento stesso in cui apriamo il discorso dell'abbattimento delle liste d'attesa è un discorso incrementale che produce domanda noi possiamo adesso produrre una riduzione delle liste d'attesa fra un anno fra sei mesi fra due anni avremo la stessa situazione la questione di fondo è interrogarsi se quella domanda ecco è l'unica risposta a un problema di salute che ha un respiro ben diverso sentivo dire dai dalla Bocconi dai Bocconiani dal professor Longo in particolare che se facessimo un ragionamento serio e profondo su queste cose dice almeno il 50% di ciò che oggi lui lo dava come messaggio anche purtroppo provocatorio 50% di ciò che oggi viene delegato ai servizi sanitari e sociali ritornerebbe nella quotidianità della vita comunitaria è chiaro che costruire una casa della comunità ha bisogno che questa sia abitata e quindi abbia le condizioni per e dietro si vada a recuperare quei valori che sono i valori di reciprocità di coesione sociale di riduzione delle disuguaglianze di inclusione che sono le premesse e il significato profondo del sistema di welfare dentro cui la casa della comunità può essere un tassello importante mi pare che l'esperienza delle piagge qualche indicazione in questo senso ce la stia dando grazie io avrei fatto anche troppo un'introduzione grazie grazie Franco ci hai accompagnato attraverso tanti concetti importanti e che sono effettivamente la cornice della casa della comunità grazie per questo grazie per il tuo contributo e adesso passiamo a Cecilia Cecilia Francini è come dicevo una medica di un gruppo di medici che lavorano all'interno delle piagge lavorano all'interno delle piagge come medici di medicina generale ma quello che lei ci racconterà è l'esperienza delle piagge in una forma molto più ampia che non soltanto la sua propria esperienza come medico quindi Cecilia hai la parola grazie allora salve a tutti grazie grazie Franco dell'introduzione interessante e illuminante spero di riuscire diciamo a dare un appiglio cioè a riportare alla pratica diciamo di un progetto di un'esperienza i temi che Franco ha affrontato spero di usare molte delle parole che Franco ci ha introdotto allora io sono una medica di medicina generale lavoro dal 2018 nella casa della comunità delle piagge oggi rappresento un gruppo un gruppo di professionisti di diverse discipline che lavorano all'interno di questo contesto che per noi è oggi un contesto non solamente di lavoro ma anche di sperimentazione di ricerca e di politica perché nella nostra pratica quotidiana cerchiamo di portare avanti anche una visione che è la visione di una di un luogo dove vogliamo che si realizzi quello un concetto di primary care quindi il nostro stare il nostro abitare la casa della comunità e oggi anche l'espressione della dell'appartenenza anche a un movimento più ampio che è quello della campagna primary care now or never che è una campagna di professionisti di differenti discipline che pensano che le case della comunità possono essere una declinazione italiana dei principi della comprehensive primary care quindi oggi vi porto un'esperienza assolutamente parziale e estremamente calata in un territorio e cercherò diciamo di riportare secondo me più che altro i momenti importanti diciamo nella costruzione di questo percorso in modo che possano essere anche di ispirazione di condivisione ad altri contesti scusate il contesto diciamo di intervento è una periferia è una periferia cittadina quindi lavoriamo in un'area di circa 35.000 abitanti che si trova nella periferia nord di Firenze e compresa come vedete dalle foto tra il fiume Arno e l'aeroporto è un'area che è famosa diciamo all'interno della nostra città perché è un'area che è nata diciamo negli anni 90 da una forte spinta dall'emergenza da un'emergenza abitativa e nasce un'area caratterizzata essenzialmente da edilizia popolare residenziale come vedete queste sono un po' le immagini del quartiere ricordano un pochino Scampia perché molte delle zone delle case popolari del quartiere sono state poco pensate dagli stessi architetti che hanno pensato le vele di Napoli quindi è un'area altamente urbanizzata dove vivono per lo più cittadini italiani stranieri nuclei familiari giovani quindi non è un'area caratterizzata da una popolazione molto anziana di cui circa un 15% sono cittadini stranieri di nazionalità cinese ma anche albanese rumena nord africana il quartiere è tristemente famoso nella città per i tassi di criminalità di dipendenze da cocaina alcol e una peculiarità particolare come vedete è la presenza di videoterminali è l'area italiana a più alta concentrazione d'Italia di videoterminali quindi questo passeggiando per il quartiere vediamo frequentemente diciamo è pensionato va in farmacia prende la pensione alla banca va in farmacia va a giocarsi la pensione alle slot machine quindi è una piaga nel nostro contesto è un'area che i dati di aziende regionali sanitarie portano nella nostra area di intervento degli indicatori di mortalità e di morbidità per malattie croniche che sono quasi tre volte più alti rispetto a quelli della città di Firenze e la zona delle piagge dista nemmeno 5 km dal centro storico quindi in 5 km si quasi peggiorano gli indicatori in salute di quasi il doppio rispetto ai tassi di mortalità e di morbidità per malattie croniche doppio è il tasso di suicidi doppio è il tasso di ospedalizzazioni per problemi riguardanti la salute mentale la casa della salute si trova proprio all'interno della si trova all'interno dell'edilizia popolare quindi è una casa della salute che nasce nei primi anni del 2000 e sulla scia diciamo quindi nasce come distretto sociosanitario nei primi anni del 2000 e subisce una trasformazione negli anni quindi fino all'ultima riforma del 2022 seguendo le normative regionali quindi diventa un luogo di sperimentazione nel 2008 della sanità d'iniziativa della promossa della regione toscana nel 2015 si trasforma in casa della salute e abbraccia diciamo diventa nel 2022 sull'ultima normativa regionale casa della comunità al suo interno ospita una serie di servizi che sono quelli proprio stabiliti dalla normativa regionale quindi è una casa della salute complessa che offre un vaccino d'utenza di circa 35.000 persone quindi è una casa della salute hub che fa diciamo riferimento a circa quindi all'interno della struttura di riferimento per 35.000 cittadini 20 medici di medicina generale di cui 6 sono inseriti all'interno della casa della salute e fa riferimento a 10 infermieri di famiglia e comunità che gestiscono in maniera integrata 10 micro aree più o meno una forse un pochino qualcosina di più di infermieri di famiglia e comunità con la nuova normativa arrivano a 12-13 quindi hanno circa 2.000 2.500 utenti per infermieri di famiglia la casa della salute è coperta e aperta 24 ore perché racchiude al suo interno anche la continuità assistenziale quindi offre un'assistenza medico-infermieristica 7 giorni su 7 24 ore su 24 all'interno presenta tutte le strutture che sono definite da una normativa regionale quindi una serie di servizi di prevenzione quindi vaccinazioni consultore ginecostetrico consultore pediatrico infermieri di famiglia comunità ufficio amministrativi specialisti ma ha due secondo me peculiarità importanti quella di avere all'interno di racchiudere anche i servizi sociali del comune di Firenze di essere una proiezione anche non solo degli specialisti ospedalieri ma anche dei servizi integrati di psichiatria e neuropsichiatria che sono stati per la nostra casa della comunità un motore importantissimo un motore culturale importante e ospita è la sede anche di associazioni del quartiere il quartiere è un quartiere ricchissimo quindi è un quartiere povero in termini economici quindi è un quartiere che vive una grossa vulnerabilità sociale ma è un quartiere anche ricchissimo di associazioni di organizzazioni di tutti i tipi che offrono diciamo per un sacco di servizi informali per il quartiere e la casa della comunità è anche un luogo dove le associazioni si incontrano dove le associazioni possono hanno inserito degli sportelli dove le associazioni che le associazioni vivono all'interno di riunioni e tavole di lavoro che cosa da dove siamo partiti cioè come come la casa della comunità delle piacce ha subito un processo trasformativo essenzialmente e qui secondo me questo è un nodo importante è stato diciamo ha incontrato quindi una lungimiranza istituzionale in realtà si è incontrata con una una grossa spinta propulsiva dal basso quindi in realtà noi siamo partiti dagli operatori dagli operatori dalle associazioni del quartiere è stato un processo che ha visto che è nato proprio dal coabitare gli stessi spazi la presenza nella stessa casa nello stesso luogo fisico è stato il motore propulsivo per il conoscersi per l'identificare una visione comune per il riconoscersi all'interno di una visione comune e per il riprogettare per rivivere quel luogo in maniera partecipata quindi è stato il processo trasformativo è stato un processo a costo zero nato dal basso e nato anche grazie a degli a degli a degli interventi di formazione che sono stati che sono avvenuti all'interno della città grazie al contributo delle associazioni grazie all'apertura degli spazi ma soprattutto grazie al coabitare lo stesso luogo che cosa è attivo al momento all'interno della casa della salute si è articolato negli anni quindi dal 2000 in realtà diciamo dal 2019 2020 ad oggi è un progetto articolato su tre assi di intervento che diciamo di fatto diciamo non hanno niente di nuovo e si ispirano a quindi non abbiamo inventato niente diciamo ci siamo ispirati a delle realtà nazionali internazionali che erano già a regime quindi siamo ispirati ad alcuni luoghi dell'Emilia Romagna e ad alcune realtà internazionali tra cui quelle portoghese e spagnoli con i quali abbiamo iniziato degli scambi e dei gemellaggi quindi ad oggi il progetto è articolato essenzialmente su tre assi di intervento il primo punto nodale della casa della comunità è l'azione di la creazione di un front office filtro accoglienza che sta anche dentro la normativa regionale e che abbiamo semplicemente articolato con la presenza di un educatore che lavora in rete con altri servizi della casa della comunità e che accoglie i bisogni dell'utenza ora sembra una cosa è una cosa banale proprio banalissima quindi la persona che entra all'interno della casa della comunità immaginiamoci il vecchietto che viene dimesso dall'ospedale che magari ha avuto una patologia una riacutazione di una patologia cronica entra in una casa della comunità e trova una persona che decodifica i suoi bisogni e che indirizza la persona ai vari servizi della casa della comunità quindi arriva a me medico il signor Mario Rossi con un bisogno già decodificato quindi non solo la persona ha evitato di fare quattro giri in quattro luoghi diversi ma nello stesso luogo della casa della comunità è riuscito a orientarsi dai servizi e ai servizi i bisogni arrivano già digeriti quindi non solo è funzionale per il paziente ma è funzionale anche per gli operatori dei servizi perché ci troviamo con pazienti che sono già in qualche modo elaborati ben indirizzati il front office accoglienza ha un altro ruolo importante nella nostra casa della comunità cioè è la parte che organizza la logistica tra i servizi quindi organizza sulla persona l'assistenza quindi se il front office ritiene che è necessaria una vita domiciliare congiunta agli utenti organizza già una quindi l'outcome della front office filtro accoglienza può essere quello per esempio di portare il paziente al tavolo di lavoro sulla complessità può essere quello di organizzare già una vita domiciliare congiunta medico-infermiere fisioterapista può essere quello di indirizzare il paziente invece a un singolo servizio perché ha un bisogno di salute non complesso e quindi risolvibile in maniera prestazionale il secondo punto diciamo del progetto è la coordinazione e l'integrazione tra professionisti e qui è stato quindi ripeto che sia il primo che il secondo punto sono stati due progetti nati completamente a costo zero e semplicemente riorganizzando internamente servizi è iniziata l'integrazione tra professionisti è iniziata banalmente dal coabitare lo stesso spazio e da bussarsi alla porta e in tre anni è diventato diciamo è nata l'esigenza di strutturare dei momenti diciamo di lavoro di equip all'interno delle agende dei singoli professionisti quindi ad oggi nelle nostre agende settimanali e mensili sono previsti degli spazi di riunione di equip dove andiamo di diversi tipi quindi ne abbiamo tante con diversi servizi abbiamo diciamo lo spazio quello principale che è il tavolo di lavoro sulla complessità dove vengono appunto affrontati in equip i casi complessi e dove lavoriamo con infermieri fisioterapisti talvolta anche con la salute mentale con servizi sociali lavoriamo sui casi complessi talvolta anche chiamando i pazienti e quindi lavorando anche con loro e anche con gli attori delle reti formali e informali quindi al tavolo della complessità talvolta ci sono i pazienti stessi che che vengono che portano la loro visione talvolta ci sono i familiari talvolta ci sono le associazioni con le quali diciamo studiamo delle assistenze calibrate diciamo all'interno del contesto sociale e rivolte alla persona e i tavoli sono diventati tantissimi cioè ad oggi diciamo la presenza nel nostro calendario a noi in tre anni il lavoro è cambiato radicalmente quindi abbiamo una cioè il mio lavoro di medico di famiglia è diventato un altro lavoro quindi ad oggi noi lavoriamo io mi sento proprio di lavorare all'interno di un'equip strutturata e si è trasformato in maniera radicale perché lavoriamo proprio su problematiche molto più più ampie e molto più complesse e sono diventati dei momenti strutturati all'interno dell'agenda settimanale quindi ormai è quotidiano ed è comune lavorare per esempio fare viste congiunte con i psicologi con i psichiatri con la dietista con l'infermiere con il cardiologo quindi lavoriamo veramente in in maniera molto fluida ci muoviamo in maniera molto fluida all'interno della casa della salute e della domiciliarità con varie figure professionali il terzo piano quindi la terza terzo asse progettuale è quello che ad oggi diciamo vuole guardare verso la comunità e verso il territorio è quello della ricerca formazione quindi la casa della comunità è diventata e sta diventando un luogo di ricerca e anche un luogo di formazione quindi è aperto è diventato un laboratorio un laboratorio aperto ai ricercatori di differenti discipline quindi ad oggi stiamo ospitando ricercatori non solo diciamo di medicina scienze infermieristiche ma anche di psicologia di architettura ed è diventato proprio è nato proprio un laboratorio di ricerca permanente con l'idea di avere diciamo interrogarsi in maniera costante cioè di rispondere a questa domanda cioè di formulare di cercare di capire quali sono cioè come dovrebbero essere organizzati i servizi sociosanitari per prendere in carico i bisogni di salute degli abitanti del quartiere l'idea è che il 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 gruppo di ricerca possa sempre diciamo possa esplorare il territorio possa attivare delle risorse quindi esplorando il territorio si vanno a scoprire delle risorse del quartiere e si vanno a riportare all'interno di chi della casa della comunità dove si cerca di fare una riprogrammazione dei servizi in base a a quello che ha alle esigenze vere della della comunità è un percorso complesso questo è che che ancora che stiamo iniziando quindi non siamo lontani dall'avere una ancora una una struttura su questo però l'idea è proprio di iniziare a lavorare su questi temi quindi di conoscere i bisogni di conoscere le risorse e di elaborare una progettualità il stiamo diciamo il gruppo di ricerca sta lavorando attraverso varie tipi di ricerca non solo ricerca quantitativa ma anche ricerca qualitativa quindi vengono utilizzate anche molte tecniche di ricerca delle scienze sociali e molti ricercatori sono proprio ricercatori di scienze sociali con l'idea di proprio attuare un processo di ricerca trasformativo che possa nel tempo negli anni riattivare quindi non solo creare fare comunità ma anche rendere la comunità stessa partecipe delle nostre scelte di salute quindi le sfide che viviamo sono con questo diciamo le sfide che noi stiamo affrontando al momento sono enormi quindi nonostante io penso che il luogo che la casa della comunità possa essere ad oggi veramente l'unica risposta a un sistema sanitario nazionale in forte crisi al nostro interno diciamo le criticità sono tantissime viviamo una carenza costante di personale soprattutto di personale infermieristico e soprattutto di personale non medico che ci consentirebbe di spostare proprio l'accento dell'assistenza da un'assistenza medicalizzata da un'assistenza rivolta alla persona viviamo una grandissima frammentazione tra servizi perché nonostante abitiamo la stessa casa purtroppo i servizi appartengono ad ambiti diversi cioè basti pensare per esempio che la medicina generale diciamo ha un tipo di contratto l'infermiera di famiglia e comunità ha un altro tipo di contratto e inquadramento e addirittura diciamo un altro tipo di utenza per non parlare diciamo di tutto ciò che viene anche ad oggi anche in Toscana appaltato alle cooperative quindi cioè la nostra quotidianità spesso è quella di di ricucire un servizio sanitario che è sempre e sociale che è sempre più frammentato che vive sempre di più diciamo l'appalto e la frammentazione viviamo diciamo la gravità di alcune scelte politiche per esempio non condividiamo un gestionale uno stesso gestionale quindi la la diversità diciamo di appartenenza a differenti appartenenze si riflette anche sulla sulla logistica quindi la non condividiamo la stessa cartella con i servizi sociali e con gli infermieri perché facciamo parte di tre diversi servizi e ancora lontana è il processo di partecipazione comunitario ad oggi diciamo nella nostra test nella nostra vision c'è quello di più possibile di andare verso una vera e propria partecipazione della comunità alle scelte della casa della salute ma su questo dobbiamo diciamo è qualcosa che ha bisogno anche di una di una grossa spinta politica e quindi siamo in un momento nel quale ci piacerebbe tanto che la la casa della comunità si apisse a quattro a quattro attori quindi non solamente all'equip della casa della salute e a ricercatori ma che dentro la casa della comunità potessero sempre di più anche inserirsi cittadini e amministratori pubblici per poter portare all'interno dello stesso tavolo delle progettualità condivise con questo io avrei concluso Cecilia vuoi chiudere la condivisione? questo è rivolto a Cecilia Cecilia vuoi chiudere la condivisione? sì allora io nel frattempo domando mi domando sentiremo ancora Franco per alcune conclusioni che lui voleva portarci però prima di passare a questo aspetto della della conclusione volevo sapere se qualcuno di noi qua nella sala vuol fare delle domande perché penso che sia meglio chiedere adesso siamo a circa un'ora da quando abbiamo siamo partiti vorrei sapere se qualcuno ha desiderio di porre delle domande o a Cecilia o a Franco in questo momento e quindi è un invito lo faccio in particolare a quelli presenti perché è molto più difficile per quelli a distanza in quanto non sono collegati con Zoom non ci sono domande su YouTube allora c'è un nostro carissimo amico compagno del pubblico che chiede appunto quanto dista sideralmente questa esperienza io approfitto di questa osservazione perché io insieme a Bruno siamo stati un mese fa circa a visitare come diceva Bruno la casa della comunità di Parma la Lubiana allora l'impressione che io ho avuto è di essere nel futuro per cui mi ricollego subito a questa nel senso che allora vorrei potervela ho fatto delle fotografie ma mi hanno rubato il telefonino e non ho potuto farvele vedere allora vorrei trasmettervi se è possibile questa foto che io ho davanti agli occhi no abbiamo questo edificio a piano terra senza barriere architettoniche lì hanno gli spazi sono a Parma eccetera costruito apposta per fare la casa della comunità in cui ci sono due totem uno sulla sinistra e uno sulla destra in quello sulla destra c'è in centro c'è scritto casa della comunità da una parte ci sono i servizi sanitari dall'altra i servizi sociali noi siamo stati accompagnati dal responsabile dei servizi sanitari il quale ha avuto piacere di presentarci il responsabile dei servizi sociali nel senso che abbiamo capito come loro si parlano comunemente e si confrontano diciamo nella gestione della casa della comunità da una parte dall'altra parte abbiamo visitato la parte espressamente la parte sanitaria in cui operano i medici di medicina generale diceva Bruno quello che loro ci hanno riferito il 60% dei medici di medicina generale nella parte della della sanitaria appunto ci sono i studi dei medici che fanno a turno per cui garantiscono una presenza sulle nell'orario giornaliero dalla dalla mattina al pomeriggio in cui ogni ogni medico ha la possibilità di utilizzare e di vedere la cartella clinica dei pazienti di tutti i medici presenti nella 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 casa della comunità e quindi il cittadino il il la persona mi piaceva questa cosa che diceva Franco Prande no questa identificare non non usare il termine il paziente non usare il termine cosa ma usare il termine alla persona la persona che fa riferimento che vi fa riferimento e ha possibilità di avere una una presenza sanitaria capace di dargli una risposta di vedere i suoi la sua storia eccetera eccetera durante tutto l'arco della giornata appena si entra c'è un il il punto di accesso in cui è presente un dipendente del distretto che quindi indirizza il famoso PUA il punto unico di accesso e a fianco c'è un un altro sportello in cui i volontari che operano normalmente nella casa della comunità sono presenti e e e primano la loro possibilità di sostegno alla al funzionamento della casa della comunità ecco e poi c'è appunto prelievi e poi ci sono i punti di agnosi c'era in quella nell'edificio a fianco c'era la la dialisi ma insomma veramente per cui proprio l'impressione di un mondo che io penso sembrerebbe io dicevo 10-15 anni più avanti di quanto non siamo noi volevo soltanto comunicarvi questa questa impressione che è soltanto un'impressione prima o poi ce la faremo ad avere con noi i responsabili abbiamo non so c'era la responsabile infermieristica della 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 comunità a parte sanitaria che era una persona eccezionale io spero di di avercela con noi nell'incontro che faremo sull'infermieri nel nel prossimo nel prossimo noi abbiamo due due incontri previsti ma adesso non lo dico subito perché se no Maria Teresa mi corregge subito e quindi non posso però c'è Claudio che vuol dire qualche cosa profitto invece che per fare una battuta per dire una cosa seria se mi riesce e mi fa piacere dirla con i colleghi di Parma e di Firenze è vero che noi siamo anni luce indietro più o meno siamo un po' prima di quando loro hanno cominciato probabilmente anche per come tessuto sociale eccetera eccetera però non significa che dobbiamo aspettare che ci siano i voli interstellari noi due giorni fa abbiamo avuto un'audizione in regione sul piano sanitario regionale e gli abbiamo detto una cosa tra i tanti insulti che gli abbiamo rivolto gli abbiamo detto una cosa alla quale io credo da tanto tempo almeno da due anni che si potrebbe provare è insensato dire che adesso si aprono in questa regione 32 case di comunità perché sarebbero delle scatole vuote anche culturalmente però si potrebbe invece concentrare le forze dicendo proviamo a fare come hanno fatto altri apriamone alcune fare degli sperimenti troviamo delle persone eh non normali un po' più avanti che siano in grado di provare questo esperimento culturalmente professionalmente eticamente quindi concentrando un po' di persone un po' di forze su una cosa così tre quattro cinque in tutta la regione per vedere dopo qualche mese l'effetto che fa sarebbe molto più ragionevole che aprire 32 case della comunità metterci su una targa come vuole fare questa giunta ma come stanno facendo in Lombardia e dentro o non metterci niente o mettere delle finzioni secondo me questa cosa si potrebbe fare ovviamente con un po' di mozione popolare diciamo così non so se andando in piazza o facendo cose di questo tipo come quelle che chi di noi se ne sta occupando come rete cerca di fare magari facendo anche tentando di far capire a qualcuno di quelli che stanno nei palazzi che queste cose esistono e che si possono fare ma bisogna cambiare registro e bisogna avere dentro e dietro della gente che lo voglia fare e forse i colleghi lontani potrebbero spiegarci come si fa a cominciare l'ultimo è effettivamente una domanda perché mi rendo conto che sia Antonio che Claudio hanno fatto più un contributo aggiuntivo che non una domanda vediamo se riusciamo a fare voi benissimo devi venire qua perché è l'unico posto dove loro ti possono vedere e si può continuare la registrazione sono Amedeo Gagliardi volevo il vostro diciamo questo ciclo di incontri sia chi ci curerà domani e quindi sono molto preoccupato di questa domanda effettivamente sì 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 no perché effettivamente è dura ma la domanda che voglio fare è questa cioè su queste cose qui tecniche diciamo che avete presentato sono cose diciamo che abbiamo studiato che chi insomma chi si non si studiano più non si studiano più però chi ha un po' di anni chi ha studiato un po' 30 40 anni fa queste cose insomma venivano la domanda che voglio che voglio fare questa non pensate che per andare verso un futuro diciamo dove magari possiamo essere ancora curati non ci voglia anche uno sfondo ideologico importante da proporre che viene prima di tutto questo di tutta questa tecnica diciamo perché questa è diciamo professionalità che è importantissimo ma uno sfondo ideologico che dia una una direzione precisa a tutta questa cosa qui perché dall'altra parte quelli che hanno frammentato lo sforzo ideologico lo hanno presentato con chiarezza in questi anni che che era quello di fare di fare soldi questo questo fare profitto no l'assalto al bottino lo chiamava Luciano Gallino che era un sociologo importante quindi non pensate che forse c'è bisogno di essere un po' più espliciti su questa sullo sfondo ideologico che ci muove perché se no secondo me ecco siamo spaventatissimi siamo troppo spaventati a sinistra da questa parola ideologia guardate è vero si è frantumato un mondo attorno a questa parola perché io lo capisco non ho vissuto come voi perché io ne ho 59 di anni ma però porca di una miseria guardate che è importante recuperare un'idea un'idea ideologia vuol dire logica delle idee perché se no è difficile comunicarla cioè se noi facciamo questa cosa qui come si fa a comunicare al panettiere sta roba cioè spiegatemelo è difficile ragazzi cioè qui io un po' ci conosciamo siete tutti tanti tecnici gente che ci ha impegnato la vita su questa roba qui e questo va bene noi questo linguaggio lo possiamo condividere diciamo abbastanza agevolmente ma il panettiere quello che mi vende il pesce cioè come facciamo a comunicare questa cosa a loro perché sono loro che sì però bisogna partire con la complessità se noi parliamo di complessità vabbè comunque la mia domanda è questa grazie Cecilia sì benissimo voglio dire volete rispondere dopo che ci sono quante altre domande almeno una due no volete aspettare ancora un attimo io vorrei aggiungere una domanda scusa Bruno posso aggiungere una domanda a Cecilia di raccontarci come hanno cominciato quando ancora non erano così organizzati cosa che diceva Claudio prima ma di raccontarci un po' come hanno fatto arrivare a questo livello che ci piace così tanto all'inizio immagino che anche loro avessero dei grossi problemi no se può raccontarci un po' qualcosa del percorso delle difficoltà grazie grazie allora io cerco di rispondere un po' a tutte e tre le domande allora come abbiamo cominciato in casa della comunità ma non è stato così difficile quindi io riporto quindi noi siamo quando siamo entrati nel 2018 come gruppo di medici di famiglia eravamo animati da un'ideologia quindi rispondo anche alla persona che ti ha preceduto quindi eravamo animati dell'idea di che un medico di famiglia abitasse la casa e la comunità voleva dire stare dentro il sistema sanitario nazionale e portare un'idea che è un'idea politica di comprehensive primary care che ha una sua visione politica importante di equità di quindi diciamo la nostra noi siamo stati animati da una visione politica nell'entrare all'interno di un contesto e abbiamo iniziato a bussare alle porte e a confrontarsi con gli altri attori quindi il processo è stato proprio un processo di contaminazione e bussando alle porte confrontandosi con gli altri quanti eravate scusami noi siamo in quattro siete partiti in quattro siamo partiti in quattro e ci siamo resi conto che all'interno del nostro processo però gli infermieri che lavoravano in quel territorio da un sacco di anni non avevano una visione molto diversa dalla nostra e ci siamo accorti che gli assistenti sociali qui abbiamo trovato alleati abbiamo semplicemente condiviso una visione e nel condividere una visione abbiamo iniziato un processo di formazione quindi abbiamo invitato persone che erano più brave di noi siamo andati a visitare altri luoghi abbiamo invitato gli infermieri gli assistenti sanitari i servizi sociali all'interno delle formazioni che la campagna primary care stava portando avanti quindi abbiamo iniziato proprio a condividere una visione e è nato e quindi in realtà ci siamo scoperti che molti di noi nonostante parlassimo un linguaggio diverso avevamo una visione molto simile molto e molto comune e piano piano abbiamo fatto gruppo quindi da 4 siamo diventati 10 da 10 siamo direi ora non è che tutti gli operatori che vivono nella casa della salute sono orientati tutti politicamente orientati però siamo tutti consapevoli del ruolo perché poi abbiamo iniziato il passaggio successivo è stato quello di prima abbiamo iniziato in maniera informale a confrontarci e abitare degli spazi che non erano quelli della casa della salute quindi a confrontarsi in altri luoghi e poi abbiamo portato il confronto dentro la casa della comunità quindi gli spazi di formazione sono arrivati quindi noi ogni mese abbiamo fatto degli incontri degli incontri di formazione di autoformazione e da lì poi è nato il tavolo di lavoro e secondo me la cosa preziosa è che il processo che è nato è stato un processo nato dal basso quindi non è stato un processo imposto ma un processo che ha sfruttato proprio le risorse e gli operatori e tuttora è un processo fluido quindi noi accogliamo cioè siamo un gruppo non è un gruppo rigido e accogliamo in maniera orizzontale le istanze di tutti quindi se viene uno studente che ha voglia di portare un argomento allo studente viene dato valore perché è parte della rete se viene l'associazione che ci vuole parlare della violenza domestica perché lavora su quello lo accogliamo e apriamo quindi è stato proprio un percorso di e ci siamo resi conto io sono entrata nel 2018 pensando non ci riuscirà mai in tre anni avevamo già a tavoli di lavoro strutturati quindi è stato per me un percorso più facile rispetto a quello che pensavo si può dire perché ha risposto a un'esigenza che c'era forse no? perché secondo me abbiamo rimotivato anche un gruppo di operatori schermo operatori anche poco valorizzati perché fare l'infermiere di famiglia fare il medico di famiglia in un contesto così difficile senza una visione politica e senza un senso è complicato oggi ci sentiamo parte di un'equip cioè quindi aver rimesso a sistema ha proprio riqualificato il lavoro cioè non solo ha garantito ha migliorato l'assistenza ma ha proprio ha migliorato la qualità del lavoro per tutti e condividere un paziente complesso cioè gestire un paziente complesso il singolo infermiere o il singolo medico il singolo fisioterapista è complicatissimo farlo in equip alleggerisce il lavoro rende bello il lavoro perché diventa un lavoro stimolante cioè io non farei cambierai mai il lavoro che faccio perché è bellissimo è tutti i giorni nuovo tutti i giorni imparo qualcosa e l'altro punto era il collega una persona che ha parlato ha parlato di come si fa a motivare il panettiere cioè noi la visione politica la portiamo tutti i giorni cioè se noi andiamo in divisa all'interno delle case il medico e l'infermiere insieme il medico e l'infermiere e il fisioterapista il medico e l'infermiere e il fisioterapista il prete della comunità perché in quel momento è un attore importante dell'assistenza noi siamo il sistema sanitario nazionale e lo portiamo all'interno delle case e i cittadini sono orgogliosi di avere un presidio che funziona in un quartiere così disagiato vengono da noi e ci dicono siamo orgogliosi che questo posto funzioni così bene e qui lavori poi e questo è il punto di cambiamento perché il passo successivo è il cittadino come ci sta succedendo ora che viene e dice io sono così contento che ci sia questo luogo posso fare qualcosa ed è un valore enorme perché nei momenti difficilissimi che abbiamo avuto a volte noi chiamiamo proprio i vicini di casa gli diciamo guarda Mario abbiamo Daniele che sta male stiamo facendo un'assistenza palliativa in questo momento ha bisogno di un supporto qualcuno del condominio ci può dare una mano e le persone ci danno una mano abbiamo retto assistenze palliative sui persone agli arresti domiciliari perché vicino di casa era gli arresti domiciliari era sempre a casa e quindi poteva somministrare la morfina al paziente palliativo quindi la comunità quando tu ci sei e tu ci sei in divisa cioè in divisa tu sei il sistema sanitario nazionale noi siamo e siamo sempre nelle strade siamo sempre in mezzo alle persone promuoviamo cambiamento sociale direi che proprio guardate le esperienze io ne posso portare tante non compiute così ma c'è un bisogno enorme da parte delle persone qualche anno fa in un contesto di tre comuni c'è stata lanciata dall'amministrazione comunale in quel caso dice perché stanno aprendo la casa della salute perché non gli diamo una mano e abbiamo chiamato i cittadini nelle forme prevalentemente associative ma non esclusivamente non solo sono venuti e hanno partecipato a un percorso di avvicinamento ai problemi ma sono sorte poi diciamo dei punti noi abbiamo quel contesto chiamato i talenti di comunità dei sensori che hanno diciamo partecipato direttamente al processo favorendo ad esempio il presidio di alcune vulnerabilità di alcune situazioni vulnerabili di contribuire anche a diciamo supportare contesti fragili al punto che poi alcune situazioni hanno prodotto che gli assistiti chiamiamoli così le persone che hanno avuto questo contributo sono diventati essi stessi risorse quello che dicevi io ho voglia che di far sto bene mi sembra una cosa bella ecco mi avete aiutato adesso sono disponibile anch'io questa è un'esperienza un'altra esperienza dove tutte le associazioni di quel territorio in una casa della salute allora si parlava ancora di quella ed è giusto probabilmente continuiamo a parlare di casa della salute perché casa della comunità è un punto di arrivo più che un punto però bisogna avere la visione ma noi dice perché dobbiamo creare un'altra biblioteca ce n'abbiamo una lì ormai dice il convento è quasi chiudo la biblioteca è la biblioteca di questo territorio la apriamo e noi possiamo anche fare da tramite questo anche per dire che non è necessario avere tutto nello stesso posto ecco questo ma la cosa più importante è che le associazioni non solo quelle dei diabetici o cose di questo genere ma anche le associazioni culturali che si occupavano della proloco sono diventate una specie di diciamo di succursale ecco di spoc del PUA che è un punto di accoglienza che aveva dei terminali nelle diverse associazioni al punto che poi il terminale della allora casa della salute è stato per un certo tempo gestito dai volontari stessi a Reggio Emilia c'è un posto dove il PNRR forse non il PNRR ma comunque la scelta che ha fatto il comune e l'azienda stanno pensando a una casa della comunità che parte da zero e sono partiti chiamando a raccolta ecco le diciamo i centri sociali le parrocchie la scuola le associazioni la cooperative no? e si sono trovate una cinquantina di realtà che hanno cominciato a dire quali sono i bisogni di quel contesto quali sono le risorse e come possiamo metterle insieme e hanno detto però a questo punto ci dite come la fate la casa della comunità cioè non dovete proporci un luogo che è già strutturato secondo i vostri criteri noi vogliamo dare la nostra voce ed è interessante che è una delle prime cose casa della comunità e biblioteca di quartiere sono praticamente diciamo una fronte all'altra con alcuni luoghi in comune vedremo poi come prenderà forma comunque 2025 dovrebbe essere la fine inizio 2026 l'apertura quindi non è che siamo per ragionare in astratto Parma stessa stanno lavorando voi avete visto Lubiana come proponeva come faceva però c'è un altro quartiere di sperimentazione a parte le 26 di case della salute che hanno con molte caratteristiche proprio aperte alla comunità un quartiere dove c'è una biblioteca una serie di servizi non sanitari ma di salute che nel loro diciamo nel loro associazionismo quindi i loro responsabili stanno contribuendo a dare forma alla casa della comunità cioè nasce in molti modi l'esperienza fiorentina è partita se vogliamo dagli operatori e l'hanno costruita dal basso gli operatori dove peraltro è vero che manca il personale eccetera ma mi è sembrato di capire che non è tanto il problema che servono più risorse importante anche questo è un caso quando vi ho portato la percentuale del PIL non è secondario ma scoprono che è possibile fare diversamente le cose il lavoro di squadra è quello sconfinamento che io vi dicevo che non è teorico ma è pratico io non vado a fare il fisioterapista ma il mio lavoro il mio contributo tecnico con il contributo tecnico del fisioterapista dell'infermiere portano a un progetto che ha un valore e sono quelli da recuperare poi io li chiamo ideologia ma questo è un'altra cosa i valori la persona ecco non può essere identificata con la patologia che definisce poi la prestazione e che definisce poi il mercato perché se andiamo sulle prestazioni è chiaro che il mercato ha la prevalenza no? ecco quindi è possibile da dove partire non lo so ecco dipende dai singoli contesti io credo che uno dei punti nodali sia la la scoperta delle risorse presenti in quel contesto mettere attorno a un tavolo le persone che lavorano le associazioni i gruppi di volontariato strutturati o meno in un comune di 5.000 abitanti hanno censito 104 realtà ecco diciamo di comunicazione formale e informale in termini associativi con l'etichetta per dire c'è una vita che va messa in campo e questa dimensione è una dimensione che va costruita sistematicamente prima vi facevo la critica sulle stratificazioni noi abbiamo la tendenza a pensare quando pensiamo di salute io sono d'accordo di dire chi mi curerà domani sono preoccupato anch'io perché comincio ad avere la mia età ma io sono anche preoccupato di un'altra cosa quale comunità la siamo ai nostri figli quale sistema salute la siamo ai nostri figli ai nostri nipoti no io tra l'altro ne ho 7 quindi il problema ce l'ho significativo ecco ma perché il discorso è sui valori noi abbiamo perso l'idea di persona continuiamo a parlare di presa in carico ma la salute è in mano al cittadino alla persona noi siamo un contributo fondamentale non siamo il sostituto e credo che l'esperienza delle piagge ce lo dica in maniera in maniera ecco proprio plastica no ecco perché questo è un po' il tema di fondo è un problema culturale oltre che organizzativo mentre oggi si sta trasformando tutto in una specie di processo organizzativo facciamo mettiamo tante etichette no abbiamo risolto il problema facciamo delle strutture ma le strutture hanno bisogno dell'anima e l'anima le dà solo le persone i cittadini i professionisti che vanno non so non hanno resistenza hanno bisogno di capire dove cavolo si va a parare farli capire che ci sono dei valori guida diventa fondamentale allora il tema ad esempio della domiciliarità io l'ho vissuto direttamente con gli operatori infermieri non è un tema di assistenza domiciliare ma è un tema che è esposto dai servizi l'assistenza domiciliare è un servizio una serie di prestazioni al discorso persona e la dignità della sua vita quotidiana e allora a quel punto io posso anche dire che non mi interessa però posso nel momento stesso in cui guardo la persona e io sono prima che essere professionista sono cittadino e rendo conto che sono parte integrante e vedo che le persone ci stanno in questo gioco poi i contesti danno situazioni operative diverse grazie Franco grazie questo mi pare un discorso molto importante per non perdersi solo nella ricerca dei medici quanti medici vogliono andare nella casa della comunità quante associazioni quanti volontari hanno voglia di mettersi insieme per fare questa casa della comunità a te Paolo io sono Paolo Oreste sono state dette tantissime cose e ci sarebbero moltissime osservazioni e cose da dire da fare mi aggancio brevemente alla parte finale dell'intervento di Cecilia ritornando sul tema delle motivazioni perché intanto è del contesto a cui faceva riferimento invece Franco è evidente che siamo stati ci hanno illustrato delle esperienze positive che quindi si possono fare è evidente che non è che le possiamo riprodurre tal quali come lo stessi hanno detto ovunque noi abbiamo a Genova una struttura anche demografica cittadina logistica non così non analoga a quelle della Mila Romagna della Toscana e quindi ci sono una serie di complicazioni aggiuntive una storia sociale e politica diversa io ho avuto la fortuna di lavorare cinque anni in Toscana e ho ben presente com'è la situazione diversa ecco però c'è un problema che diciamo che noi possiamo in qualche modo dobbiamo porci allora esiste un problema di motivazione degli operatori sanitari perché secondo me se non vengono se non c'è una motivazione a lavorare in un modo diverso non c'è modo non c'è modo e per motivarli secondo me bisogna cominciare dall'università cioè bisogna che gli studenti di medicina gli studenti delle facoltà sanitarie comincino da lì a pensare di come si può lavorare e che quindi già a livello universitario non solo della facoltà di medicina ma anche delle altre professioni ci siano scambi e informazioni su come si potrebbe lavorare in modo diverso perché chi lavora preferisce lavorare bene che lavorare male io penso quindi c'è un problema di motivazione che motivazioni si progressano poi fondamentalmente di due tipi uno dell'organizzazione del lavoro del come si lavora e quindi essere soddisfatti del proprio lavoro e l'altro economico è inutile che ce lo diciamo cioè c'è una fuga di medici dal servizio sanitario pubblico perché sono poco pagati lavorano tanto troppo male e quindi se possono giustamente perché no se ne vanno ecco vanno a lavorare nel privato è evidente che in una realtà in cui le scelte politiche gestionali da parte delle amministrazioni pubbliche sono a incentivare il privato è facile che è questo è facile trovare posto fuori dal servizio sanitario quindi è un po' due facce della stessa medaglia quindi è un po' un circuito vizioso probabilmente qualche sperimentazione può darsi che qui si riesca a fare ci sono anche contesti particolari voglio dire i nostri quartieri sono abbastanza socialmente disarticolati e disgregati si può pensare di fare delle sperimentazioni ma senza la motivazione sul personale sanitario lo vedo lo vedo difficile poi la situazione è molto complessa cioè non è così banale perché le persone chiedono di essere curate tutto bello però se uno ha il problema della visita cardiologica vuole avere giustamente la visita cardiologica come gli serve quando gli serve per risolvere il suo problema cardiologico poi certo c'è la persona però noi dobbiamo in qualche modo sapere che dobbiamo mettere insieme l'efficacia e quindi c'è tutto il discorso sulla salute la prevenzione il stile di vita tempi organizzativi del servizio sanitario e l'efficienza cioè hanno un costo cioè la cosa che mi ha colpito di Franco che voglio sottolineare quando lui mi dice che dalla loro esperienza sono passati dall'80% delle valutazioni negative al 50% cioè hanno risparmiato 30% di esami inutili di prestazioni inutili secondo me quello è un indicatore fondamentale quindi secondo me dobbiamo lavorare su quegli indicatori perché bisogna essere efficienti oltre che efficaci perché il servizio sanitario deve essere efficiente lo dobbiamo a chi paga i propri contributi il servizio sanitario nazionale che è un servizio non è una somma di prestazioni grazie scusa Bruno quando quando puoi solo per dire che è anche un problema di età cioè quando qualcuno di età no nel senso che l'età media tutti noi noi ci conosciamo da 50 anni abbiamo cominciato a lavorare insieme 50 anni fa con Claudio un po' più frequenti più recentemente perché lui è più giovane però il problema è che devono bisogna mobilitare quelli che hanno una motivazione Franco diceva ai nipoti anch'io ho un nipote anch'io penso al suo futuro ma dobbiamo motivare le giovani generazioni ci viene da fare d'accordo però mediche operatori sanitari e no quando puoi sono arrivate due domande su youtube hai due domande da youtube benissimo allora culotta sii breve perché così possiamo ancora sentire le due domande sì grazie a tutti ai relatori e anche mi aggancio all'ultimo intervento di paola io mi chiamo Claudio culotta e sono stato medico nella Astra Genovese e mi aggancio anche al discorso di paolo Oreste l'efficienza quindi anche i costi però è stato detto qualcosa di molto interessante sia dai relatori Cecilia ha detto che non sono partiti con risorse particolari sono partiti con quello che avevano e allora a me veniva in mente perché un'altra domanda che è emersa ma come si fa come si fa a iniziare come si fa a provare ecco cioè qual è la strada però noi tutti sappiamo perché che la strada si fa camminando cioè in effetti l'ha detto anche Prandi molto bene non è che ci possa essere come dire una una mappa o una una cosa scritta che dice allora bisogna fare così 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 per realizzare le case della comunità bisogna provarci bisogna provarci naturalmente per provarci occorrono alcune condizioni dico solo ma chiudo subito che noi qui con altri amici che fanno parte di queste associazioni stiamo provando a provarci e per esempio esistono in Genova alcuni quartieri mi viene in mente adesso il lagaccio gli amici di Firenze eccetera non conosceranno o delle Emilia Romagna ma è un quartiere particolare e noi abbiamo parlato con le associazioni di quel quartiere abbiamo cercato anche di coinvolgere perché ci vuole un coinvolgimento dell'istituzione Asla e del distretto se no diventa una cosa volontaristica e allora non ha nessuno scopo però cercando di parlare col tessuto associativo e con alcune associazioni particolari che fra l'altro prima c'era anche vabbè Sergio Margini ecco non so se è andato via ma comunque sì abbiamo provato a fare questo tentativo perché bisogna provarci in qualche modo naturalmente perché ci siano delle condizioni di partenza cioè qualche operatore sanitario che fa parte dell'istituzione qualche medico di medicina generale motivato e quindi qui ci vuole quello che è stato già detto sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista perché no anche ideologico cioè una visione una visione sempre in qualche modo un po' ideologica grazie Claudio le due domande MT arrivo sono per Cecilia a Firenze quante altre case della comunità ci sono come tipo quella delle piagge potenzialmente come popolazione potrebbero essere 10 o 15 o forse più l'altra domanda chiede la regione come si pone rispetto alla casa della comunità delle piagge sono appena tolleranti normali o preferiti esemplarizzati bene sono rivolte a Cecilia vero? ok allora un tema quindi che riporto cerco un po' di ricongiungere gli interventi che sono stati fatti allora un tema fondamentale che è emerso secondo me è quello della formazione di cui parlava la collega secondo me è importantissimo che i luoghi che già sono a regime diciamo e lavorano già in un senso di casa della comunità diventino dei luoghi di formazione noi in tre anni diciamo abbiamo formato cioè siamo diventati siamo diventati un luogo di formazione per giovani medici di famiglia in formazione per studenti di medicina e studenti di scienze infermieristiche quindi l'idea diciamo di avere un laboratorio aperto ha avuto una grossissima contaminazione nel contesto territoriale e si sono aperte altre case della salute quindi su Firenze nel 2000 l'ultimo anno i giovani medici di famiglia sono entrati in altre due case della salute anche in un numero consistente sono entrati quasi più di quasi 15 colleghi in due case della salute e una terza si sta aprendo nel territorio cittadino quindi a ragione del fatto che la formazione cioè che i luoghi che già sono a sistema diventino possono contaminare possono contaminare perché perché a mio avviso portano una vision di un modello di lavoro che è un modello anche non solo diciamo più efficace ma più efficiente e più soddisfacente per gli operatori io non lavoro cioè i miei orari di lavoro questo è quello che mostriamo agli studenti non sono non lavoro 12 ore al giorno quindi siamo organizzati in maniera efficiente in modo tale di lavorare su turni di lavorare in equip di condividere le assistenze e questo ha un grossissimo impatto sui colleghi perché non solo sono motivati ma vedono anche che si lavora anche in maniera sostenibile quindi penso sia abbia un grosso potere contaminante scusa Cecilia puoi dirci questa formazione è un momento del vostro della vostra settimana di lavoro no no noi abbiamo fissi noi abbiamo fissi cioè abbiamo la casa della comunità ospita il tirocinio del prelaurea e quindi un mese di tutti cioè tutti i tirocinanti della gli studenti di medicina di medicina fanno un mese di tirocinio dal medico di famiglia e possono scegliere di venire in casa della comunità quando sono a casa quando vengono da noi abbiamo cercato di dare un'attenzione abbiamo cercato di strutturare molto di dare un'attenzione particolare alla formazione quindi di strutturare i tirocini in modo che i ragazzi diventino parte dell'organico quindi come noi lavoriamo su turni i ragazzi lavorano su turni e sono inseriti nell'organico quindi fanno con noi i domiciliari con noi le riunioni d'equip hanno un ruolo che poi all'interno che è un piccolo ruolo fanno anche delle cose in autonomia che su un modello un pochino nord-europeo gestiscono da soli con supervisione per esempio da noi una parte della una parte del tirocino di medicina è stare al front office della casa della salute così le persone possono imparare a gestire i percorsi imparano tantissimo perché imparano a capire quali sono i circoli e i ricircoli dei pazienti che non sono ben indirizzati imparano a stare a guardare che cosa fanno gli altri professionisti quindi sono messi proprio al sistema e abbiamo visto che la maggioranza dei ragazzi che arrivano da noi che vogliono fare i chirurghi finiscono per fare o i medici di famiglia o di psichiatri o di neuropsichiatri o a cambiare mestiere quindi è molto interessante perché ci rendiamo conto che proprio c'è un potere diciamo anche creativo generativo sulla professione e lo stesso lo facciamo ospitiamo i tirocini di medicina generale di scienze infermeristiche e li facciamo lavorare insieme quindi i pazienti sono gestiti alcuni pazienti sono gestiti dallo studente di medicina e dallo studente di scienze infermeristiche insieme così alla pari imparano a stare senza gerarchie nello stesso tavolo e imparano a stare nello stesso contesto quindi questo è e questo ha avuto un grosso potere contaminante e gli studenti sono sempre richiamati per le formazioni quindi le nostre formazioni di tavoli di lavoro sono sempre aperte agli studenti hanno finito con noi il periodo possono ritornare per tutti gli anni successivi una volta al mese quando facciamo le riunioni d'equip o le formazioni vengono richiamati e quindi è bellissimo perché nelle nostre riunioni d'equip ci sono sempre 20 studenti di medicina che sono lì partecipano perché che hanno voglia e molti sono stati una risorsa enorme perché per esempio ora durante la campagna vaccinale abbiamo scelto di fare una richiamata attiva dei nostri pazienti e di studenti stanno richiamando le persone che stanno in maniera volontaria e vengono ci stanno aiutando bene una parola sulla regione perché la domanda era qual è l'attitudine della regione mi pare e il numero delle case della comunità a casa della comunità su Firenze che funzionano come casa della comunità quindi su un modello su un modello quindi che hanno dentro medici di famiglia che lavorano in equip sono tre al momento e una quarta che sta nascendo con con una buona possibilità di diventare una casa della salute vera che lavora come casa della salute più una nella zona nord-ovest quindi diciamo però è tutto nuovo cioè tutto negli ultimi tre anni quindi c'è stata una mentre la regione va che dire diciamo il secondo me non abbiamo una regione che ostacola certamente quindi abbiamo una buona una normativa regionale decisamente interessante e orientata verso le case della comunità e quindi sulla carta diciamo ci sostiene così come ci sostiene l'ASL ci sostiene un po' meno il dipartimento della lobby dei medici di famiglia quindi siamo un po' visti come le pecore nere i riazzi i rio insomma i giovani quelli che vanno un po' lasciati da parte però diciamo iniziamo ad essere tanti quindi iniziamo a poter anche alzare la voce e diciamo secondo me la la regione ci sostiene più sulla carta che nei fatti perché quello di cui abbiamo bisogno oggi per fare veramente un salto di qualità è una ridefinizione politica anche dei contratti dei finanziamenti quindi bisogna ora iniziare ora abbiamo fatto le nozze con i fichesecchi come se dice in Toscana abbiamo lavorato a costo zero ora è necessario che i politici inizino anche a capire il valore delle case della comunità e investire in termini politici prima di tutto e poi un pochino anche economici ma soprattutto politici cioè nella nella riorientare nel riorientare servizi e nel dare valore alla programmazione politica delle case della comunità molto bene grazie MT altre domande l'ultimo intervento su YouTube ringrazia i relatori per l'impegno e sottolinea e concorda sull'importanza di coinvolgere gli studenti universitari in queste strutture sì siccome qua abbiamo anche segni di stanchezza e persone che si allontanano chiedo a Franco se vuole ancora dire volevo integrare Bruno volevo integrare il ragionamento di Cecilia dicendo intanto che come associazione siamo andati proprio per sollecitare la costruzione attraverso anche la formazione una cultura sia sull'investimento nella politica l'investimento nelle istituzioni e con gli operati lo strumento che noi abbiamo visto come importante è quello di scambio quello che succede alle piagge non è che possiamo prenderlo e portarlo a Genova però ecco se noi andiamo oltre capiamo il senso del lavoro che fanno le piagge forse qualche elemento in più lo troviamo per diciamo per entrare nei nostri specifici contesti prima chiedeva come faccio a parlare col panettiere io vi posso dire che la maggior parte dei talenti sociali di quel territorio di cui vi parlavo erano i parrucchieri gli alimentari di prossimità ecco questa gente qui non è che l'agricoltore non il contadino insomma il proprietario di fattorie che già da solo faceva una serie di cose lui lavora con cingalesi e indiani prevalentemente e alcuni neri i ragazzi di queste famiglie studiavano con i ragazzi dell'imprenditore e lui faceva il dopo scuola informale no ma questo è salute se avete questo è deve diventare elemento che è patrimonio della comunità io credo che se dovessimo tirare le fila non voglio farlo io però una cosa che mi piacerebbe che mettessimo in chiaro ecco anche per chi ha detto appunto tiriamo fuori un po' l'ideologia io non lo so se io credo che siano valori e allora su questo ad esempio noi abbiamo detto come possiamo leggere una casa della comunità abbiamo trovato sei traccianti il primo è uscire dalle uffici io dicevo ho sempre detto dobbiamo costruire gazebi in piazza la cosa che diceva Cecilia va in questa direzione se penso al ruolo che ha la parrocchia perché me ne aveva parlato e l'ha anche accennato il prete che va in casa no ma c'è un mondo che gira attorno alla parrocchia ed è un mondo che va recuperato in una logica appunto culturale nuova andare a cercare chi non arriva ripeto le stratificazioni non ci aiutano a scoprire quelli che Gianni Tognoni Mario Negri chiama i diritti negati no quelle situazioni che per ragioni eh culturali sociali no ecco di denegazione in un qualche modo ecco non emergono e allora abbiamo bisogno di scoprirle perché è lì l'esperienza prima parlavamo di esperienza l'unica esperienza che sono stati a fare attorno all'articolo uno della legge 77 delle sperimentazioni di prossimità no ce ne sono poi molte altre ma quello l'abbiamo fatto riguarda proprio quelle figure che vanno dagli homeless ai rom ai tossicodipendenti ecco che ecco non possiamo pensare di trattare a lattere ma sono cittadini e quindi devono diventare parte dei luoghi di cura e quindi delle case della comunità ordinarie no è il lavoro che abbiamo provato a fare quindi andare verso cercare chi non arriva la salute è un problema è l'identità di una comunità io vivo in una comunità perché ci sto bene ecco ho dei servizi che funzionano mi ci riconosco ecco la casa della comunità è un luogo che io voglio che sento di poter abitare no e allora diventa quello che diceva ma l'ho sperimentato anch'io diventa quello che diceva Cecilia io sto bene sono disponibile a fare qualche cosa e qui c'è tutto il problema delle generazioni i giovani sono una ricchezza ma che va scoperta perché i meccanismi tradizionali con cui abbiamo costruito l'associazionismo a loro non interessa più ecco non vogliono essere impacchettati scusate questa brutta parola la quarta cosa che volevo che noi abbiamo messo quando parliamo di sostenibilità significa recuperare tutte le risorse attenzione le risorse della salute non sono solo le risorse del fondo sanitario nazionale ce ne sono c'è una ricchezza a livello comunitario che se ben orientata si può recuperare si parla di budget di salute di comunità e budget di salute individuale non può essere semplicemente un po' di soldi del servizio sanitario o del servizio sociale che vanno sulle persone è proprio la costruzione della rete delle opportunità di quel territorio il budget di salute individuale è stato sperimentato molto nell'ambito della psichiatria ma vale per tutti vale per tutte le persone che presentano problemi di protezione perché cronici in un qualche modo e poi abbiamo dato altri due valori due traccianti più che valori il protagonismo della persona è il protagonismo della comunità ecco non possiamo noi non lavoriamo per la comunità lavoriamo con la comunità perché la casa è una casa della comunità ecco no? e quindi il nostro sforzo è di essere dentro le cose e costruire con loro questo vale anche nella relazione di cura individuale no? il compito di chi cura non è quello di risolvere il problema ma di costruire con la persona le condizioni perché il problema possa essere affrontato e risolto se è possibile ma non si risolve solo con la tecnica non si risolve solo con l'operatore sanitario si risolve con la persona e con il suo contesto e questo l'abbiamo perso di vista abbiamo pensato e continuiamo a pensare che la salute la garantiamo noi con le tecnologie con le prestazioni con l'accesso da 40 anni a questa parte stiamo dicendo ai cittadini questo adesso siamo in difficoltà perché sono cambiate le condizioni di salute sono cambiate la dimensione demografica non ce la facciamo più e adesso però c'è questa io mi alzo la mattina col mal di pancia voglio la visita mi alzo con il mal al piede e vado dall'ortopedico e chiaramente non è come mi manca la carne vado dal macellaio la logica è la stessa la logica non può essere la stessa sono io il protagonista primo della mia salute e con me l'insieme delle risorse che la comunità mi mette a disposizione mi sembra di capire che l'esperienza delle piagge sia proprio in questa direzione la ricostruzione con la comunità di un progetto di comunità sia la scommessa insomma tra l'altro non siamo i soli sapete c'è un progetto finisco qui il progetto dell'Anci che parte da due presupposti possiamo chiudere il discorso delle categorie sociali e possiamo eliminare il discorso del portfoglio delle prestazioni in questo progetto sono coinvolte dieci città medio-grandi c'è anche Reggio c'è Bergamo c'è Treviso ecco sono una decina di città però al di là della provocazione del progetto è questo un po' il ragionamento che dobbiamo fare grazie grazie Franco mi pare che siano delle belle conclusioni non ho altro che aggiungere che ringraziare molto Cecilia per il tempo che ci ha dedicato che fa parte della formazione e della diffusione di una buona pratica di un buon esempio ringrazio molto Franco per le sue riflessioni profonde e generali che ci dà sulla comunità e sul ruolo che tutti tutti noi possiamo avere in quelle comunità ringrazio per finire Cristofere e Maria Teresa Tuccio perché hanno permesso di svolgere questo incontro non solo per quelli che sono venuti ma anche per quelli che sono venuti da fuori l'ultima cosa vorrei dire che il nostro appuntamento prossimo Maria Teresa dici con la locandina ti lascio illustrare e concludere vado io? a dire ok il prossimo appuntamento sarà nella seconda metà di novembre scusami Maria Teresa allora il prossimo appuntamento è ancora da precisare probabilmente sarà mercoledì 29 novembre quindi e sarà affronteremo il tema del ruolo dei medici di medicina generale all'interno delle case delle comunità ci sarà dopodiché un incontro a dicembre sul ruolo dell'infermiere di comunità di famiglia di comunità come oggi si chiama e quindi diciamo metteremo a fuoco cercheremo di mettere a fuoco questi due personaggi queste due figure professionali che dovrebbero essere centrali nella assistenza territoriale prossimo del prossimo futuro grazie a tutti e buonasera buona serata a tutti alla prossima buona serata e grazie grazie dell'opportunità